Questo video dobbiamo provare tutte le copie di StumbleGuys Vediamo come sono, se sono più facili o più difficili di StumbleGuys Mi raccomando ragazzi lasciate tutti quanti un bel like Raviamo per questo video 300 like se vedete altri video del genere E iscrivetevi tutti quanti al canale se non l'avete ancora fatto ragazzi Mi raccomando perché se lo fate ragazzi non vi perdete le notifiche Di video che usciranno e delle live Mi raccomando fatelo e di tutto questo ragazzi possiamo iniziare Ok ragazzi sicuramente tutti voi ragazzi conoscete StumbleGuys no? E sapete ragazzi che StumbleGuys dicono che è la coppia di FallGuys Scrivetemi anche nei commenti ragazzi se voi preferite FallGuys o StumbleGuys Oggi in questo video ragazzi andremo anche a provare tutte le copie di StumbleGuys Virgolette FallGuys E vedremo ragazzi come saranno ragazzi se avete capito bene E niente sono davvero curioso ragazzi quindi mi raccomando lasciate un bel like E adesso ragazzi andremo a fare subito una bella win Così quando proveremo le copie Siamo bene preparati Ok ragazzi siamo qui in Block Dash Che sicuramente voi conoscete ragazzi Che Block Dash ragazzi in un gioco Cioè è molto semplice da giocare Ragazzi solo due persone sono morte Oh GG Ragazzi li sto facendo fuori tutti Ok No Mori Yeah Vediamo ragazzi quale sarà l'ultimissima mappa Uh Lava Wash ragazzi Lava Wash è molto molto semplice Ce la possiamo fare ragazzi Dobbiamo solo correre qua Che salutiamo qua In questo video saluterò tre persone Che hanno trovato la parola segreta Saluto Rita Eli Pietro Manfrini E Jess Mi raccomando ragazzi se anche voi volete essere salutati nel prossimo video Trovate la parola segreta E verrete salutati nel prossimo video Ok C'è ProMatic davanti ragazzi Poi io sono Ok Ma come Dove mi ha colpito ragazzi Non ho capito dove mi ha colpito Vabbè Vabbè ragazzi GG Avento ProMatic Di ragazzi di andare a provare un'apotita Su Fall Guys Ok ragazzi Come vedete Questo ragazzi E' una copia Di Fall Guys Ragazzi si Che si chiama Just Fall Ragazzi siamo dei Bellissimi Pucciosi Pinguini E io ragazzi direi di prendere Il pinguino Blu E la cosa bella che In sto gioco Qui puoi anche scegliere la modalità Ragazzi E adesso Io direi Un bel Hexagon Ragazzi Facciamo un bel hexagon E vediamo Com'è ragazzi C'è Mi sembra C'è davvero una copia ragazzi Proprio una copia Quindi Stumble Guys E Fall Guys Direi che sono molto meglio Ragazzi E hanno messo Che se ci sono I pinguini Cosa Uuuu Uuuu Ok Guardate ragazzi Resta sopra No Staccadetto Staccaduto Uuuu Che salta 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 Copia di Fall Guys Andiamo sul primo Fall Gutes Vediamo un po' com'è Fall Gutes ragazzi E un'altra copia Di Stumble Guys Scusami E Mr. Dylan Salva Qualcuno mi ha già votato il nome Su sto gioco Ok ragazzi Come vedete Siamo qui Nella copia Di Stumble Guys Ragazzi Questo ragazzi Praticamente La copia Ragazzi Una delle tante copie Di Stumble Guys Che Cirano In circolazione Cioè vedete Mi devo muovere Col mouse Ragazzi Ragazzi E se notate Sto gioco Ragazzi Fa schifo Perché Si va 2 fps Cioè guardate Ragazzi Sto andando 2 fps Ragazzi Ok ragazzi Mi devo Il mio obiettivo Ragazzi E qualificarmi Ragazzi Se mi qualifico Dovete ragazzi Tutti quanti A lasciare un bel like Sto gioco Che mer Che schifezza Ragazzi Cioè E dovete Pensare che c'è gente Che ci gioca Ragazzi Sto gioco Cioè davvero Cioè io ragazzi Allora Io non ci giocherei mai Vabbè Ragazzi Questa è un'altra coppa Ragazzi E ragazzi Di fam Che Giochiamo Vedete Run Guys Ragazzi Run Guys Che credo sia un'altra Credo un'altra specie Di coppie Ragazzi Non lo so Io sono curioso Ragazzi Cos'è Run Guys Uh Ok Ragazzi Eh Ragazzi Che cos'è Ragazzi Ma cos'è Va bene Come faccio Andare Ok Ragazzi Dai 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 Devo andare avanti Ok Così salto Il cavolo è Ragazzi Mi chiamo Mi puzza Mi puzza Il culo Next Ok Mi sono chiamato Mi puzza Il culo Va beh Ragazzi Mi raccomando Scrivetemi Se questo video Ragazzi Vi è piaciuto Iscrivetevi Lasciate il like E tovete la campanellina E noi ragazzi Ci vedremo In un prossimo video Ciao Belli Scrivetevi